Ciao, sono Manuela Mantella ed insieme con Francesco Gallori e Roberta Minore siamo parte della grande famiglia Concept Group Live. Francesco intervista personaggi che spiccano per moto attendenza e creatività e noi tutti lo supportiamo. Segue le nostre dirette live su Facebook, Youtube, Instagram e Telegram. Ho già tante amiche che si sono iscritte e tu cosa aspetti?